E' paradossale che comunque degli onorevoli per fare un pasto completo spendono 11,25 euro in base al capitolato. Questa è la cifra che serve per garantire i prezzi del menù. La differenza, mi pare di capire, la paghiamo noi come cittadini? Sì, in teoria la differenza la paghiamo noi perché questa cifra viene versata mensilmente alla ditta per garantire questi prezzi. E praticamente questa cifra annualmente si gira intorno ai 300.000 euro all'anno che per 4 anni siamo circa a 1.200.000 euro. Con 11,25 euro e io qui, in una trattoria media di Palermo, cosa posso mangiare? Allora, molto probabilmente un piatto di pasta, il coperto che viene messo dappertutto e una bottiglia d'acqua. Proviamo a fare un confronto. Antipasti. Antipasti, secondo la quota a carico dei deputati di 1,50 euro, quota media va da 7 a 8 euro. I primi piatti con 2,25 euro. Il prezzo al mercato medio, vedo che è 9,8 euro, 10 euro. Carne e pesce costo uguale, sono 3,38 euro. E comunque non ci stiamo perché qui vale il pesato, lì invece vale già la porzione. Sì, con questi prezzi si può chiudere sicuramente. Bevande varie? 1,13 euro. E qui noi abbiamo dai vini bianchi ai rossi 14,15 euro, sì appunto è la media che si legge qui nel menù. Pane e caffè 0,75. Noi neanche lo prendiamo in considerazione se uno ci viene a dire per esempio di mangiare 11 euro perché comunque qua alla fine non ci rientriamo. Sarebbe una specie di carità, mettiamola così. Presidente Crocetta, questo avviene nel ristorante che è all'interno del Parlamento, l'Assemblea regionale siciliana. Ora è chiaro, queste sono denunce che fanno colore, la sostanza è ben altro, cioè non è quello che risolve i problemi della Sicilia. Però vorrei capire se poi unendo tutte queste situazioni, io non lo so, ma a nessuno viene pagato, credo, uno che va a lavorare. Non è che è quello che gli paga il mangiare. Se ha una grande ritribuzione, no? Perché loro prendono sui 10 mila euro al mese, in più gli paghi il mangiare, in questo periodo non si risolvono i problemi. Però Crocetta qualcosa mi deve dire. Io trovo scandaloso queste forme ancora di privilegi della casta. A Parlamento europeo, per esempio, a quale io appartenevo fino a qualche giorno fa, tutto questo non accadeva. Pagavamo regolarmente il ristorante come tutti gli altri. Per chi voleva risparmiare c'era il self-service, diciamo, che viene anche riservato a tutti i Parlamenti. Molti parlamentari, sinceramente, per un fatto democratico, preferivano anche andare insieme agli assistenti e a tutti gli altri, piuttosto che godere dei privilegi, ma in termini di costo era molto caro il ristorante del Parlamento. Cioè, è molto caro. Ecco, ma ce la fa... Costa esattamente, il Parlamento europeo, naturalmente. Quindi verrà chiusa... Costa esattamente quanto può rimanciare. Io ce la farò, se ce la farò a cambiare... Ma penso di sì, già col Presidente dell'Assemblea. Scusi, Presidente, chiuderà la buvette e soprattutto cosa ne sarà degli stipendi dei consiglieri, dei deputati regionali che rimangono così alti? Cioè, verranno sì o no dimezzati? Col nuovo Presidente dell'Assemblea regionale, perché poi le retribuzioni dei parlamentari, anche i privilegi dei parlamentari, come in questo caso, che non hanno alcun senso, disciplina il Parlamento. Ma già io ho proposto al Presidente dell'Ars di istituire un tavolo conciunto governo-parlamento per portare avanti una spending review che riguarda le spese dei parlamentari. Allora, arriveremo anche agli stipendi. E non solo dei parlamentari. I dipendenti debbono prendere degli stipendi giusti, ma non possono essere anche loro oggetto ai privilegi. Perché lì, all'Ars, negli anni, si sono stabilite delle cose terrificanti. Cioè, con dei costi. Il segretario che costa i 600 mila, poi gli usceri che costano come quelli del Senato, poi gli assistenti e funzionari la stessa cosa. Alla fine i pasti privilegiati per i deputati. Alla fine questa struttura costa tre volte tanto quello che dovrebbe costare. Un attimo solo, un attimo solo, Manuela? Però non condivido quello che dice sempre il nostro rappresentante leghista. Prendetevi le tasse, eccetera. Adesso arriviamo a Salvini. Perché noi con le tasse ci paghiamo quello che voi non pagate. E poi ne parliamo. Arriviamo a fare un attimo solo. No, e no, mamma mia. Le soprintendenze dipendono dallo Stato a Milano, mentre in Sicilia le paga lo Stato. Lasciatevi i soldi che ce li mettiamo noi in Lombardia. Mi perdone. Ma i soldi ce li dovete lasciare voi. I soldi ce li dovete lasciare voi. Perché tutte le società che lavorano in Sicilia... Ma quanti dipendenti ha la regione Sicilia? Tutte le società che lavorano in Sicilia hanno sede a Milano. I soldi ce li dovete lasciare a Milano. Ma i dipendenti che il vostro sistema ha permesso... Perché Berlusconi, fino a oggi... Ma chi se ne frega di Berlusconi? Ma come se ne frega? Ma come che se ne frega? Ma crocetta anche lei ti rende ballo Berlusconi. Ma li ha fatti elettere perché scuola che ha creato questo sistema. Ma ci sono domande a me che sono arrivato un mese fa. Anche lei mi ha la regione Sicilia. Non ci sono domande a me che sono arrivato un mese fa. E' stata una sensazione molto bella. Questo striccione che hanno preparato in nome del... E' fantastica. Sentivo gente che mi diceva... A me non è mai capitato di camminare per strada con accanto tutti questi onorevoli. Certo perché vengono eletti, si chiudono poi nelle stanze. Perché pensano che abbiano quel diritto preso per cui poi non si devono più relazionare. Giannina Ciancio, ho 22 anni e sono... Ero studentessa. Manessa Ferreri, a Cate, in provincia di Ragusa. Niente, io lavoravo in un negozio, in una pelletteria e soprattutto facevo la mamma. C'è anche la paura di fallire, di non farcela? La paura di diventare come gli altri? No, la paura di diventare come gli altri no, perché cammini con la schiena dritta per cui non ho la paura di diventare. C'è la paura di fallire, c'è la paura di non riuscire ad incidere così bene e poi praticamente di sentirti dire Ah, però non avete fatto niente. Questa chiaramente c'è la paura. Ed è una paura però di quelle che ti accendono l'adrenalina, ti fanno lavorare ancora di più. Matteo Mangiacavallo, di Sciacca, 40 anni, facevo il tecnico informatico. Io facevo l'insegnante. Claudia Larrocca, 31 anni, prima di essere eletta stavo cercando di portare avanti con alcuni ragazzi un progetto di tipo imprenditoriale nel settore del turismo. Dopo un mese e mezzo all'elezione siciliana, vi siete detti perché avete preso così tanti voti come Movimento 5 Stelle sull'isola? Un po' la protesta, un po' la proposta della novità, un po' il fatto che la gente si era schifata di votare i partiti e quindi ho voluto cambiare, un po' anche Grillo con i 16 giorni che è stata in Sicilia. Lei quanto guadagna? Noi ci autoriduciamo lo stipendio, 2500 euro più le spese. Il resto vanno in meno? No, non la regione. Noi abbiamo neanche nominato un tesoriere perché non vogliamo i soldi pubblici, non ci interessa. Sono ingegnere, lavoravo a Londra fino a prima che iniziassi questa esperienza. Al momento non lavoro, ho lavorato nell'azienda di famiglia, 10 anni, sono laureata in scienze naturali. La Sicilia è stata un campione di scandalo, come riuscirete a sovvertire tutto questo? Bisogna informare in una parola i cittadini, se riusciamo a fare questa cosa smonti tutto, perché quando riporti alla luce del sole i bandi, chi vince i bandi, come li vince, chi ha vinto i bandi è il cugino delle cose, allora lì comincia a smontare, lì sale l'indignazione e non puoi più farle. Io dico che cambieranno un po' di cose. Crocetta, ha sentito le parole di questi ragazzi, di questi giovani che sono lì col Movimento 5 Stelle? Dico, se si portano alla luce le cose, se si dà trasparenza, lei li avrà come alleati, secondo il suo pensiero o no? Dovrà avere qualche appoggio? Perché dai solo i numeri non ce li ha per governare. Ma io spero di sì, fra l'altro ho visto con molta simpatia questo incresso, diciamo, popolare al Palazzo. La questione è, per esempio, io voglio dire, fra i primi atti che ho fatto è l'eliminazione di 13 partecipate che da dieci anni erano in liquidazione e continuavano a spendere più di quelle che sono attive. Stiamo facendo un piano di eliminazione di altre 30 partecipate che porteremo al Parlamento, immediatamente, per eliminarle, per fare una vera spending review. Ho denunciato il fatto. C'è una domanda che vuole fare il vice direttore del giornale, Tramontano, prego. Sì, però se mi fa finire... Sì, sì, prego. Volevo dire, finire. In questi giorni abbiamo scoperto che c'era una ditta dal 94 che praticamente non ha pagato circa 30 milioni di euro sui biglietti dei siti archeologici e io la sto facendo cacciare. L'altro giorno ho scoperto che alcune fonti della formazione finiscono nei conti correnti dei dipendenti. Io mi trovo di fronte a un sistema che è completamente malato e le cui complicità sono alte. Perché quanto qualcuno pensa che da Roma o da Milano non c'entra affatto nulla, si sbaglia. Perché le complicità con questo sistema di gruppi dirigenti siciliani sono stati e sono venute da lontano anche da Roma le protezioni di questo sistema. Su questo io intento non transiggere.